Dietro front, tutto cancellato. Dopo le polemiche di queste settimane, la giunta del comune di Como, nel tardo pomeriggio di oggi, ha riavvolto il nastro. Depennati tutti gli aumenti pazzi spuntati in alcune vie cittadine quest'estate, dove la tariffa relativa alla prima ora è stata raddoppiata, passando da 50 centesimi a un euro. Decisione presa dal dirigente del settore, Pier Antonio Lorini, senza che, come appurato in seguito, l'assessore Daniela Gerosa ne fosse informata. Fatto sta che dopo le tensioni, i chiarimenti, le diplomazie, oggi Gerosa ha portato in giunta la decisione. Da domani, al massimo introsera, nelle vie Borgovico-Vecchia, Borsieri, Toriani, Benzi, Cadorna, Via Milano-Bassa, 20 Settembre, Anzani, Alciato e Zezio, tutto tornerà come prima. Vale a dire 50 centesimi la prima ora, un euro la seconda, un euro la terza. Como Servizi Urbani modificherà i parcometri domani in giornata. Abbiamo fatto quanto promesso, dice Gerosa, e la Giunta a decidere, inoltre aggiunge, a breve dovremo rivedere l'intero quadro delle tariffe in città, perché è un caos.